Anche la Toscana è terra di conquista per Camorra e Andrangheta. Dopo anni di silenzi, alcune operazioni dell'antimafia hanno mostrato i forti interessi di Casalesi e Ndrine. Solo pochi giorni fa un'operazione ha portato all'arresto di 23 persone che gestivano traffico di cocaina, controllo di lavori stradali e smaltimento illecito di rifiuti. È emerso intanto ancora una volta l'interesse delle cosche mafiose, in questo caso dell'Andrangheta, a fare affari in Toscana e ad occuparsi di settori particolarmente redditizi sia nel campo illecito, cioè il traffico di droga, l'estorsione degli appalti, sia nel campo apparentemente illecito che è la gestione dei rifiuti. A lasciare stare fatti però sono soprattutto le ceneri altamente inquinanti delle concerie riutilizzate nell'attività edilizia, tra cui circa 8.000 tonnellate utilizzate proprio per la costruzione di questo lotto stradale, il quinto lotto della strada regionale 429 che collega Castelfiorentino ad Empoli. Tutto questo naturalmente può preoccupare perché una volta che saranno finite le analisi che in parte già abbiamo realizzato, sarà possibile stabilire il tasso effettivo di inquinamento che questa cosa comunque in ipotesi d'accusa assolutamente illecita ha effettivamente comportato per le falde acquifere sottostanti. Secondo l'inchiesta, proprio sotto questo manto stradale ci sarebbero sostanze altamente inquinanti che avrebbero deteriorato l'ambiente e le falde acquifere. La presenza dell'andrangheta in realtà non nasce oggi e forse a lungo si è sottovalutato il fenomeno. La Toscana per la mafia non è una novità. La fine dell'89-90 lavoravamo nel mondo dell'edilizia su Livorno, quindi su autostrade, bretelle, superstrade. Anni venti ha incontrato un pentito ex boss di Andrangheta che oggi sotto tutela ci ha raccontato particolari clamorosi e inquietanti. Se c'è una regione dove si può considerare una delle grandi lavatrici per eccellenza è la Toscana. Noi non abbiamo mai sentito parlare proprio perché lì avvengono degli investimenti, dei riciclaggi di denari molto significativi, ma da tantissimo tempo in Toscana non ammazzano nessuno. Quindi là c'è un interesse mafioso, politico, istituzionale a tenere il tutto buono perché naturalmente dove ci sono grossi interessi si spara poco, si fa poco rumore. Ma la Toscana è terra d'approdo non solo per l'Andrangheta, ma anche per i casalesi per i quali il cemento è oro. Soltanto pochi mesi fa l'operazione Minerva ha fatto emergere un sistema di autoriciclaggio e fatturazioni false che ha portato al sequestro di beni per 8 milioni di euro. La struttura era molto complessa e noi l'abbiamo ricostruita come una sorta di gruppo. Le società erano distribuite su tre livelli distinti. Un livello che era quello che effettivamente faceva i lavori attraverso degli appalti di mano d'opera, quindi venivano dislocati nei vari cantieri, anche cantieri pubblici, della manovalanza che svolgeva dei lavori. Questi lavori venivano pagati e poi vi era una seconda fascia di società che emetteva delle fatture per prestazioni inesistenti di servizi e poi riversavano i soldi a una terza fascia di società, vere e proprie cartiere, i cui titolari erano dei prestanome che incassavano tramite Bancomat il denaro contante di queste prestazioni inesistenti che poi ritornavano ai capi dell'organizzazione e che li smistavano. Le società riconducibili ai casalesi erano riuscite a infiltrarsi anche negli appalti pubblici, dalla ristrutturazione del Museo degli Innocenti di Firenze fino al polo didattico dell'Università di Pisa. I capi di questa organizzazione avevano un doppio ruolo, il ruolo di fare affari con le proprie attività e nello stesso tempo il ruolo di drenare denaro per le casse dell'organizzazione criminale, quindi per pagare i detenuti, gli stipendi agli affiliati e via dicendo.